La visita del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è partita proprio da Graglia e proseguita a Biella, accompagnato dal Sindaco di Biella Claudio Corradino, affiancato dal Vice Sindaco, Assessore Bandi PNRR Giacomo Moscarola e dagli Assessori all'Istruzione Pubblica Gabriella Bessone e ai lavori pubblici Davide Zappalà. Alle scuole di Amicis è 25 aprile di Chiavazza, nei cantieri dei lavori avviati dal Comune grazie ai fondi del PNRR, con investimenti importanti che renderanno le scuole più sicure, più efficienti, più a misura di studente e la città maggiormente attraente e appetibile in futuro. Sono stati investiti 417.000 euro puntando sulla didattica innovativa e sull'inclusione per favorire l'apprendimento dei bambini e per esaltare i talenti. L'idea di una scuola aperta, fonte di rigenerazione urbana, secondo l'idea degli amministratori e dei progettisti, è molto valida e mi piace, ha spiegato il ministro della pubblica istruzione del merito Giuseppe Valditara. La scuola bella, anche attenta ai colori, ai suoni, alla qualità dell'aria, alle luci, è una scuola che stimola molto lo studio e la concentrazione. È la scuola della serenità, della gioia e del coinvolgimento e nel capitolo della ristrutturazione e riqualificazione abbiamo messo oltre 5 miliardi di euro. È importante investire nel capitolo della sicurezza e dell'abbattimento delle barriere architettoniche perché dobbiamo sempre essere molto attenti ai problemi dei ragazzi portatori di disabilità e poi pensare alla bellezza dell'architettura.